Ciao, sono Giovanna Mazzon, VocalEssence Coach e fondatrice del metodo VocalEssence. Se non sai cosa è VocalEssence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo sempre una reaction della nostra rubrica di X Factor 2021. Andiamo a sentire oggi Febe, che canta una canzone di Billie Eilish, No Time To Die. Bene, Febe, questa ragazza molto particolare, con questo anche abbigliamento particolare, questo mood di presentarsi seduta su una sedia con questi calzini bianchi alti, può piacere o non piacere questo stile, ma comunque sicuramente originale anche nel modo di presentarsi. Chiaramente porta un brano di un'artista che è già di per sé molto complicata da portare come cover in generale, cioè da interpretare, perché già lei è molto identificativa come artista. E diciamo che i suoi brani stanno molto bene ad una voce come la sua, proprio perché sono cuciti su di lei come timbrica, come modalità espressiva, come tutto, anche come proprio testi. E questa interpretazione, contando che tecnicamente questa ragazza è meravigliosa, ha una capacità espressiva importante e anche una capacità di controllo vocale importante, lo si sente in tutti i passaggi, piani forti, falsetto soffiato, più velato, rispetto poi a una voce più piena, non ha una grande potenza, ma ha una grande capacità di intonazione, di controllo vocale, di controllo della dinamica, tutto. Però ha una forte componente, almeno dal mio punto di vista, di imitazione di questa artista, dalla quale è difficile staccarsi come interpretazione, e quindi alcuni passaggi, alcuni suoni sono molto simili. E in questo caso è sempre un po' difficile, perché la voce è meravigliosa, il brano ovviamente porta a questa imitazione, anche se comunque ha cercato e si vede che cerca una sua personalità all'interno della cover, e quindi a volte si rischia un po' di andare a sovrapporre e anche a confrontare due artiste su una cover così importante. Non so se avete un po' capito questo punto di vista. Quando si sceglie un artista così forte a livello di personalità, o si fa qualcosa di molto diverso, che vada proprio quasi all'opposto, e che quindi vada a dare un'interpretazione molto originale, oppure si rischia di cadere in quella che è un'imitazione troppo vicina. E questo ovviamente fa sì che si metta a confronto le due interpretazioni. E se penso all'emozione e al trasporto che mi dà Billie Eilish quando canta, chiaramente questa ragazza a livello interpretativo a confronto non mi ha dato la stessa emotività. Se avesse magari portato un brano suo, o interpretato un altro tipo di brano, magari un altro genere musicale con una voce del genere, sicuramente avrebbe forse colto di più nel segno. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuta, se invece avete notato anche voi questa somiglianza nei timbri. Mi interessa, perché comunque i punti di vista sono sempre diversi. E ogni artista trasmette cose diverse alle persone, chiaramente, ed è questo anche il bello dell'arte. Ed è molto, molto importante confrontarsi e mettere insieme le idee per creare poi altro, altra arte, altre idee ancora. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!